C'è probabilmente una lite condominiale dietro la sparatoria di questa mattina a Barra, quartiere della periferia est di Napoli. Quattro le persone rimaste ferite in modo lieve da colpi di arma da fuoco, esplosi intorno alle 11 in piazza Crocelle da una o più persone ancora ragnote. Le vittime, tutte incensurate, sono state colpite rispettivamente ad un ginocchio, ad una caviglia, ad una gamba e la quarta di striscio al volto. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Sulla base dei primi elementi raccolti gli investigatori tendono ad escludere una matrice di criminalità organizzata. Sulla base dei primi elementi raccolti gli investigatori tendono ad escludere una matrice di criminalità organizzata ed ipotizzano conflitti interpersonali tra nuclei familiari. Indagini più approfondite sono tuttora in corso da parte della Polizia.